Ne ho fatte di tutti i colori, quindi ho frequentato talmente tante di quelle storie che mi sono abbeverato a tutte le fonti. Il Vito al Viaggio è il concerto-tributo che moltissimi artisti italiani hanno dedicato al grande Franco Battierato. Credo che veramente la terra, il mare, il vulcano gli abbiano trasmesso una grinta, una forza e un'ispirazione incredibile. Franco teneva tantissimo al cinema, in un certo cinema. C'è tanto di siciliano, oltre il suo accento meraviglioso, di riposto. Questo amore più elevato a cui lui tendeva l'ha manifestato con la sua voce e con la sua musica. Lui una volta mi disse che il segreto per essere un uomo e artista libero è riuscire a scardinare l'arte dal fine. L'idea di base è stata quella proprio di usare la sua band con l'orchestra e i suoi arrangiamenti. L'invito al viaggio nasce da un'idea di Francesco Cattini. Ci sembrava un'impresa grande da realizzare in così poco tempo. Il battiato è nei libri di storia e rimarrà come punto di riferimento per le generazioni future. Devo dire che è stata un'esperienza anche questa qui che proprio ti nutre, si sale, si sale. Grazie. 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 Grazie.